Tentato omicidio a Santaghi, un quarantenne di Giva è stato ferito stanotte mentre rincasava, attualmente ricoverato al Brozzo in grave condizioni. E' morto Gesuino Muleida, politica sarda in lutto per la scomparsa dello storico esponente del PC ma già assessore all'agricoltura della giunta di Mario Meris. Carboni a bilancio di previsione domani in consiglio, all'ordine del giorno dell'Assemblea cittadina ha anche una variazione di bilancio di previsione 2018-2020. Nel Tg l'assessore Manca spiega alcuni degli obiettivi principali. Dal 7 luglio i saldi estivi, tra aspettative e rassegnazioni si ipotizza una spesa media a famiglia di 227 euro. Bene ritrovati su Canale 40, lo avete sentito dai nostri titoli di apertura, la cronaca forse si tratta di tentato omicidio ma non si escludono altre ipotesi. L'incidente è accaduto nella notte appena trascorsa nelle campagne di Sant'Adi. La vittima è un quarantenne di Giva e si trova attualmente ricoverato in coma nell'ospedale Brozzo di Cagliari. Guido Cadoni. Tentato omicidio durante la notte intorno a Luna in località Maramai, territorio del comune di Sant'Adi. Un operaio N.A. di 40 anni di Giva è stato ferito con due colpi di arma da fuoco alla testa ed è attualmente in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzo. I carabinieri della compagnia di Carboni e del reparto operativo del comando provinciale di Cagliari stanno lavorando nel tentativo di ricostruire la vicenda e individuare i responsabili. N.A. era la guida della propria auto, una Mercedes, con lui un pensionato di Masainas, 65enne, ha presso un'altra auto guidata dal padre della vittima. I tre rincasavano dopo aver lavorato nei campi. Nel tragitto N.A. è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla nuca perdendo successivamente il controllo dell'auto. È stato il pensionato di Masainas a fermare la macchina e insieme al padre della vittima hanno dato l'alarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza dei volontari di Giba che hanno trasportato il ferito all'ospedale Sirai di Carbonia. Poi, viste le condizioni gravi, i sanitari ne hanno stabilito il trasferimento al Brozzo. Le indagini iniziate all'istante non hanno ancora permesso di ricostruire l'accaduto, soprattutto simile a comprendere se si sia trattato di un tentato omicidio o se il ferimento sia riconducibile ad altro. Il Consiglio Comunale di Carbonia si riunirà domani per discutere tre punti inseriti all'ordine del giorno, tra cui una variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Ed è proprio di bilancio che abbiamo parlato con l'assessore competente Mauro Manca che ha fatto il punto sui principali obiettivi del bilancio di previsione. In sintesi, volendo parlare della previsione da qui al 2020, quali sono per esempio i punti cardine che avete individuato? I punti cardine partono da quello che è lo sviluppo economico. Abbiamo definito un piano di sgravi e contributi per le attività produttive. Riteniamo necessario che per poter, visto che abbiamo un problema di fondo su quella che sono i soggetti residenti, l'anno scorso abbiamo perso 300 persone rispetto all'anno prima, è necessario far sì che le persone tornino a risiedere a Carbonia e per far questo è necessario che esse abbiano il lavoro. Quindi abbiamo definito un piano, come dicevo, di sgravi e investimenti per le attività produttive che vogliono investire e vogliono iniziare la loro attività qua a Carbonia. Abbiamo definito anche un piano per quelli che sono gli investimenti per quel che riguarda l'efficientamento energetico. Abbiamo vinto un bando per l'ex tribunale che ci permetterà, oltre che fare l'investimento, avere anche delle economie da questo punto di vista. Ma ce ne sono tante altre che magari in un secondo momento, in modo più approfondito, sono pronto a dimostrare. L'assessore Manca ha fatto anche alcune precisazioni sul bilancio invece consuntivo che è stato recentemente presentato in Consiglio. Sentiamo. Abbiamo trovato un disavanzo da 13 milioni e 2 che adesso, nell'ultimo rendiconto che abbiamo provato, è arrivato a 6 milioni. Quindi abbiamo già fatto un lavoro importante da questo punto di vista. Abbiamo razionalizzato le spese e abbiamo lavorato su quelle che sono le entrate. Solo l'anno scorso abbiamo recuperato 1 milione e 200 mila euro di IMU che non erano state in passato riscosse. Quindi credo che sia un bilancio che deve comunque tener conto di quelli che sono i mancati trasferimenti che arrivano dallo Stato. Teniamo conto che dal 2009 al 2014 300 milioni in meno ai comuni sardi sono arrivati. Deve tener conto di quella che è la crisi del sulciso iglesiente. I cittadini molte volte si trovano a dover scegliere se pagare le tasse o acquistare da mangiare. Ed è questo un problema di fondo perché comunque sappiamo bene che le spese si devono basare su quelle che sono le entrate. Lavoro e lavoriamo per fare in modo che Carboni abbia un bilancio solido per fare gli investimenti che attualmente abbiamo in programma di fare. La politica sarda è in lutto. Gesuino Muledda se n'è andato questa mattina morto a Monserrato dove era ricoverato nel policlinico universitario. Gesuino Muledda, 76 anni, fu esponente di spicco del PC e negli anni 80 assessore regionale all'agricoltura nella giunta guidata dal sardista Mario Melis. Nativo di Oniferi ma ogliastrino di adozione, ha vissuto le stagioni più floride della politica autonomista nella nostra isola. Attualmente era il presidente dei Rossomori. Cambiamo argomento, voltiamo pagina, tornano i saldi. Per la nostra isola la data d'inizio è quella di sabato 7 luglio. Tra aspettative e rassegnazione si ipotizza una spesa media a famiglia di 227 euro. Sentiamo. Inizierà a breve la stagione dei saldi, quelli estivi. La data per la nostra isola è quella di sabato 7 luglio. Le aspettative sono alte come sempre. Del resto l'ufficio studi di Confcommercio ipotizza un giro d'affari attorno ai 3,5 miliardi di euro per una spesa media a famiglia di 227 euro. Pur trattandosi di valori medi non sembrano cifre esorbitanti. Del resto il 2018 almeno per adesso non sarà ricordato per le vendite memorabili. Forse anche per questo monta l'attesa per questi saldi estivi. Le previsioni dei commercianti infatti sono pressoché in linea con quelle dell'anno scorso. Pedil Codacon se la spesa calerà rispetto all'anno scorso del 5% circa, mentre lo scontrino medio si fermerà a 64 euro a testa. Secondo l'Associazione dei consumatori la crisi dei saldi non toccherà però le grandi firme prese comunque d'assalto dai consumatori. Insomma continuerà a piovere sul bagnato. E' stato presentato nei giorni scorsi il bilancio della società Eural Coop di Carbonia nella sala riunioni dell'Uotel. Come di consueto i soci si sono riuniti in assemblea per votare il documento finanziario che è stato approvato all'unanimità così come il rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione con Nino Flore in qualità di amministratore delegato Ignazio Mura presidente. Nonostante la forte crisi internazionale che colpisce significativamente il nostro territorio quello che è stato approvato è un bilancio positivo che conferma il trend degli anni precedenti e viene maggiormente consolidato anche dal bilancio positivo della Lampo 5, società controllata dell'Ural Coop che gestisce le strutture alberghiere e tutto il settore turismo. La società Eural Coop dunque si conferma ancora una volta leader sul mercato nel territorio. Andiamo avanti, vi abbiamo parlato di recente dei servizi che vengono attivati sui nostri cellulari senza averne fatto richiesta, magari semplicemente sfiorando un tasto nel nostro schermo touch durante la navigazione su internet e così è possibile appunto attivare alcuni servizi a pagamento che spesso azzerano il credito presente sulla scheda. Riprendiamo questo argomento e sentiamo alcuni consigli della Dconsum. Parliamo un po' dei servizi telefonici a pagamento. Telefonici e non solo, anche servizi che si attivano attraverso il nostro computer. Capita spesso che quando riceviamo le fatture troviamo o adebitati dei servizi non richiesti. Ci chiediamo e questi servizi come sono stati attivati? Purtroppo spesso si attivano involontariamente, magari leggendo delle pubblicità oppure dei quesiti che ci sono attraverso delle app. Quindi uno ha dei quesiti, indovinelli, clicca e non sa che facendo questo gesto dà avvio a un abbonamento. Abbonamenti gestiti da aziende straniere, spesso dei prezzi fiscali, ma attraverso le ditte telefoniche, le varie Wind, Tre, Vodafone, Tim e via dicendo. Quindi ci troviamo spesso questi abbonamenti non dovuti. Cosa bisogna fare quando non li riconosciamo? Prima di tutto dobbiamo chiamare la ditta, la compagnia telefonica che ci ha adebitato i costi e questi diranno che non dipende da loro, non sono loro. Invece sono loro che hanno fatto i contratti. Quindi dobbiamo rivolgerci a loro. In caso contrario, se la disattivazione non è immediata, possiamo rivolgersi alla Gcom, che è l'agenzia garante delle telecomunicazioni in Italia, con dei numeri che ora vi leggo, numeri telefonici appropriati e possiamo chiedere anche il rimborso di quanto pagato e non dovuto. Non dovuto perché il servizio è stato attivato senza il nostro consenso o quantomeno senza la consapevolezza che attivevamo un servizio. Perché spesso si fa un clic su una richiesta, noi ne facciamo due volontariamente. Il secondo è l'attivazione, ma questo non lo sappiamo. Alcune volte si fa anche per telefono, arriva una telefonata, uno squillo, rispondiamo, non rispondono, ci portano via i quattrini. Ci sono tante possibilità. Allora il numero da fare alla Gcom è 800442299 ed è attivo 24 ore al giorno dove noi possiamo dire alla Gcom, spiegare quello che ci è successo, qual è la compagnia, chiedere le modalità di denuncia per riottenere annullamento del servizio ed anche l'eventuale rimborso aspettante. Tutto questo è a seguito delle vere lamentele che sono state da tantissimi migliaia di cittadini attraverso le associazioni dei consumatori. Questo è quello che siamo riusciti ad ottenere. Quindi un numero dedicato alla Gcom, ripeto, che è l'autorità che gestisce le telecomunicazioni in Italia. Il numero da fare è 800442299 ed è attivo 24 ore al giorno. Prima però chiamiamo la ditta che ci fornisce il servizio telefonico. Il presidente del Consiglio Comunale di Carbonia, Daniela Marras, ha convocato, lo dicevamo, nella nostra prima parte del telegiornale, una seduta dell'Assemblea cittadina per domani alle 19.30 presso la sala polifunzionale di Piazza Roma. Nella duranza pubblica verranno discussi tre punti all'ordine del giorno, le comunicazioni del sindaco, le interrogazioni, le interpellanze e le emozioni e infine la variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Il Comune di Carbonia informa che la Polizia Locale effettuerà nel corso del mese di luglio i controlli sistematici su tutto il territorio comunale per verificare che siano rispettati i limiti di velocità da parte dei conducenti. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate a norma di legge dall'apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l'iscrizione Polizia Municipale Carbonia controllo elettronico della velocità. L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale del Comando di Polizia Locale. Sono state presentate sabato mattina nel corso di una conferenza stampa le edizioni 2018 delle manifestazioni Ombreggiando e Notteggiando insieme al sindaco di Iglesias e Mauro Usai erano presenti tutti gli organizzatori delle due iniziative, il Centro Commerciale Naturale, Centro Città, Iglesias Servizi, la società in house del Comune che si occuperà della parte tecnica, il Consorzio Turistico per l'Iglesiente e il Liceo Scientifico Statale Giorgio Asproni. Sabato 30 giugno scorso nel ristorante Tanete di Carbonia c'è stato l'avvicendamento tra il presidente uscente del Rotary Club di Carbonia, il dottor Giovanni Battista Mezzena e il presidente entrante, il dottor Antonietta Cucchedu, la dottoressa Cucchedu, attualmente dirigente scolastico dell'Istituto Angioi di Carbonia e il secondo presidente donna del Rotary Club di Carbonia. Prima di lei la professoressa Lucia Morino aveva ricoperto la stessa carica. La dottoressa Cucchedu rimarrà in carica per tutto l'anno rotariano ovvero fino al 30 giugno 2019. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio adesso alle previsioni del tempo, poi in oassi in corso il nostro telegiornale Lingua Sarda insieme a Guido Cadoni. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci.